guarda c'è guarda un pochettino poi facciamo così oddio ragazzi è vergognoso è vergognoso anche il pecca e ragazzi come va io sono ferreniki e io sono stef e che stagione che è ma clash royale ebbene sì e abbiamo deciso di portare questo gioco con un'idea un po' folle un po' pazza chiamiamola come vuoi esattamente cosa vogliamo fare vogliamo fare un nuovo account che partirà dal livello 1 insieme a tutti voi piano piano salire senza mai gemare per nessun motivo cercare di arrivare nelle arene più alte quindi cercando capito di provare sempre nuovi deck di trovare qualcosa che giocando comunque senza spendere funzioni per arrivare in alto ci sembra una buona idea perché soprattutto comunque su youtube ci sono tantissimi canali che fanno già serie dove si shoppa si fanno tutte quelle cose quindi diciamo che vogliamo provare a fare qualcosa di diverso e ci sembra carina un'idea del genere esattamente non so se ci riusciremo speriamo di sì perché a me piace tantissimo questa idea e poi mi piace la vedo come una sfida esatto cercare di raggiungere le arene più alte senza neanche spendere un euro e deve essere fighissimo provarci a riuscire che poi non abbiamo mai speso un euro ed è quello che comunque abbiamo sempre fatto con i nostri vecchi account i consolini staranno pensando perché allora c'è questa schermata perché questo è il mio vecchio account ve lo volevamo mostrare giusto per farvi capire che non stiamo iniziando a giocare a Clash Royale adesso ci giocavamo tanto tempo fa questo è il mio account ma proprio nerdate di ore improponibili giocavamo davvero tantissimo questo è il mio account ero arrivato in arena 8 senza mai aver speso un euro infatti se vi faccio vedere il deck il livello delle carte è normale quindi è tutto ok e praticamente ero riuscita ad arrivare ad un massimo di 2831 trofei quindi vicinissima all'arena leggendaria e comunque ero stabile in arena 8 quindi questo comunque per farvi capire che la serie non sarà una cosa a casaccio dove non sappiamo giocare e improvvisiamo no sappiamo come si gioca esatto dobbiamo giusto abituarci agli ultimi mesi perché avevamo proprio smesso di giocare per la gente che shoppa che secondo me è davvero un pochettino la parte più noiosa perché quando ti becchi uno che ha 4 livelli più alti di te di carte non puoi farci nulla anche se lui sta al telefono capito lui sta ad un altro telefono a messaggiare ogni tanto mette una carta ti batte esatto no secondo me guarda ci sta magari shoppare qualcosina per aiutarti non so incontro chi shoppa o cose del genere però non ci piace quando si esagera anche perché ovviamente non ci va di spendere chissà quanti soldi in un gioco comunque che nasce come free to play quindi non mi piace molto come idea e quindi noi non abbiamo neanche shoppato con i nostri account personali quindi speriamo bene speriamo di riuscire ottimi risultati e possiamo iniziare con il nuovo account è tempo di iniziare e di scegliere il nome si oh il nome cosa sceglieremo mai non te lo dico eccoci qua con il nuovo account siamo alla fine del tutorial giusto per farvi vedere che è proprio nuovissimo come account consolini versus gems quindi gem mi sembra un buon nome per iniziare un nuovo account che dici anche secondo me perché proprio una vera sfida sarà una sfida del non shoppare mai quindi iniziamo ci manca l'ultima partita di tutorial giusto per far vedere che lo stiamo finendo in questo momento e poi possiamo iniziare tanto vabbè il tutorial non è che c'è molto da dire facilissimi metti le truppe vanno dritte istruggono tutto adesso perdo ti immagini sarebbe una vergogna perdere col contro i bot contro i bot sarebbe davvero una vergogna guarda che comunque il maestro boris è uno che sa come funziona il gioco si guarda 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 vedi la fireball si è difeso benissimo si guarda sicuramente una difesa inattaccabile proprio lascialo in pace allora comunque abbiamo lasciato i bauli da aprile perché io non mi ricordo in che baule si trova l'epica perché quello diciamo che è un po' l'inizio di tutto quando trovi la prima epica non mi ricordo spero che sia prince anch'io anch'io prima nel momento in cui facevamo il tutorial stavamo discutendo ma quale sarebbe meglio trovare per prima anche secondo me prince il principe sarebbe la migliore soprattutto per iniziare diciamo che è una carta davvero davvero forte più avanti ci sono altre epica che mi piacciono di quelle iniziali però per l'inizio secondo me è quella che funziona meglio perché la gente infatti non sapendo come si ferma si accettiamo accettiamo apriamo tutti i bauletti velocissimi ta 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 probabilmente si trova ah ci ha dato anche già la prima da tre ore da tre ore questa è la free chest vediamo cosa ci dà di bello ok qualcosina niente di che epica 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 eccola ok ce l'ha scritto ecco finalmente dicevo non mi ricordo più la sequenza delle chest allora dovrebbe essere principe la strega il lordata di scheletri e il draghetto giusto dovrebbe essere solo queste quattro speriamo nel principe dai dai un secondo partiamo bene su 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 dai dai ta ta non è male il draghetto se riusciamo a combinarlo bene secondo me non è male ok cosa ci togliamo per iniziare secondo me il knight non ce ne facciamo nulla ci usiamo il draghettino così 3.5 mi sembra abbastanza buono potenziamo quello che possiamo potenziare che tanto fin quando costano 5 monetine monetine si può fare non è un grosso problema esatto potenziamo anche le frecciotte iniziamo andiamo prima partita adesso c'ha le carte livello 10 dal livello 1 non si sa come allora vabbè spero che siano persone di pari livello ok non lo so però di sicuro io non sto tranquillo quindi partiamo con calma ok knight livello 3 livello 3 quindi non mi sembra troppo eccessivo livello 2 mi sembra tutto abbastanza normale pensiamo anche un pochettino a difenderci almeno all'inizio e poi ci spariamo sta partendo meglio di noi sì assolutamente sì ci vuole masacrare sì le carte anche di livello leggermente più alto quindi è normale dobbiamo essere pronti a tutto se vogliamo portare avanti assolutamente sì siamo sempre pronti forza signor gigante andiamo a sfondare tutto draghetto allora draghetto da questa parte per difenderci e questa torre l'abbiamo buttata giù quindi siamo riusciti a difenderci però abbiamo preso più danni tra una torre e l'altra quindi diciamo che non è male però non è neanche tanto bene poteva andare meglio insomma anche se il draghetto guarda sta facendo un bel po' di danno alla torre ma anche qua guarda l'abbiamo già mandata a mille quindi potremo tranquillamente quando lui fa il prossimo attacco mandare tutta la nostra roba e finire la partita quindi mettiamo un gigante da questa parte così vediamo cosa lui decide di fare questi goblin sono già pronti a mangiarsi viva la moschettiera assolutamente sì in questo modo così mettiamolo anche noi lì dietro esatto arcieri qui così secondo me dovrebbero riuscire a difendere abbastanza bene e iniziamo ad andare in avanti vediamo un pochettino adesso che cosa fa ma ma ok sinceramente gli lasciamo fare quello che vuole da quella parte perché noi abbiamo finito abbiamo praticamente finito guarda se non metto una truppa qui adesso ok sì abbiamo finito puoi tirare anche la fireball giusto per prima vittoria per andare sul sicuro è andata benissimo sì dai le prime partite sono sempre facili quindi mi immaginavo che tanto avremmo vinto ok lui è di livello 1 però è giapponese quindi quando è giapponese bisogna sempre stare più attenti perché i giapponesi hanno sempre carte di livello altissimo allora draghetto che parte super da dietro e noi ci mettiamo questo ma è anche già il priest come cavolo fai basta avere un po' di fortuna alla fine cavolo ma ha avuto molta fortuna cioè dico io ok ci stai provando con le frecce ma sinceramente amico mio non serve a molto poi ci mettiamo anche una moschettiera in realtà questo è stato un po' uno spreco anche secondo me però ormai l'abbiamo fatto non ci possiamo fare molto sì 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 moschettiera contro moschettiera guarda che scontro epico wow emozionantissimo emozionantissimo allora abbiamo ci siamo difesi dal suo primo attacco secondo me abbiamo almeno due di Elisir in più di lui in questo momento ma aspetta come fa ad averne due no tre prince ha usato il draghetto il prince è la strega tre ne ha cioè com'è possibile cioè ha già shoppato di frutta ma io non ci posso credere ma dico io ho iniziato dieci minuti fa a giocare ma dai cioè ha shoppato di sicuro com'è possibile sì 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 credo sia così matematico che no sì è matematico che sia impossibile avere tutto insieme se ne ha tirato fuori tre guarda che allucinante allucinante vedi perché è giapponese i giapponesi shoppano tantissimo sì 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 comunque questa serie è fatta per andare contro queste cose quindi dobbiamo vincere vedi questo secondo me è sbagliato cioè non è neanche iniziato a giocare ma neanche ti diverti se shoppi subito capito e poi guarda perdi lo sesso perché sbagli gli attacchi giustamente li sbagli certo cioè devi comunque almeno capire le meccaniche del gioco poi è divertente ma secondo me questo si è fatto il secondo account e ha shoppato e ha deciso che voleva picchiare tutti a livelli 1 guarda cioè guarda un pochettino poi facciamo così oddio ragazzi cioè è vergognoso è vergognoso anche il pekka il pekka non è almeno di arena 2 ma non ve lo ricordo neanche è pieno di carte cioè ne sta togliendo fuori una doppia Houston abbiamo un problema che disgraziato però il pekka è andato dritto quando c'era il gigante comunque no ma vabbè è un disgraziato lui ha vinto ha vinto ha vinto alla fine ce l'ha fatta prossima partita su non pensiamoci più si poteva vincere secondo me perché ho sbagliato dopo che ho distrutto la prima torre a stare troppo ad aspettare e gli ho permesso di accumulare l'elisir esfruttando il per due a farmi un attacco che io non posso difendermi perché lui è appunto troppo epiche dovevo continuare a maciullare io anche secondo me comunque ok grazie bella questa grazie grazie comunque iniziamo super concentrati perché abbiamo capito che già dall'inizio si possono trovare persone che hanno scoppato possiamo sconcentrare un attimo esatto noi pensiamo dai primi livelli è semplice invece ci ha fregato ci ha fregato quindi super concentrati e andiamo all'azione ci ha messo già una luz nel curriculum non lo perdonerò mai non va per niente bene mi ricorderò il suo nome con tutti i nicosi da giapponese o quello che è me li sognirò la notte guarda subito che bello attacchino lui ha sprecato tantissimo l'elisir quindi la prima torre è andata si esatto adesso invece che avere fretta e cercare di andare subito continuare con questo attacco questo lo facciamo morire e i danni che fa lui continua a sprecare dell'elisir qua vedi perché pensa che ci sia ancora altro da difendere ma in realtà non c'era più nulla e noi pensiamo già ad andare dall'altra parte siamo nel per due ed è tempo di fare una raffica incredibile guarda qua dai che abbiamo vinto abbiamo vinto frecce così proprio a casaccio perché così quello che mette viene colpito e ce la fa ok perfetto abbiamo fatto altra vittoria a portata vedi alla fine sono abbastanza semplici quando non hanno carte di livelli quando non decidono di spendersi lo stipendio a livello 1 si Prince se riesce fuori con tutte empiche sto qua allora stiamo calmi Prince puntami i due arcieri grazie perfetto la moschettiera dovrebbe ammazzarla abbastanza in fretta anche lui la moschettiera però sinceramente qua non aggiungiamo altro e aspettiamo un pochettino vediamo come si comporta lui comunque il nostro qui dovrebbe bene o male pareggiare il nostro gigante esatto vai fireball in fretta sono un po' in ritardo però perfetto forse addirittura butta giù forse addirittura buttiamo giù fermano vabbè ha messo gli arcieri ce la fa dalle quel pugno dai 49 vabbè vabbè benissimo però benissimo abbiamo fatto un bel po' di danno quindi va bene questi arcieri li ignoriamo totalmente per non sprecare delle lisir e ce ne andiamo direttamente dall'altro lato in modo tale da poterci difendere perché lui avendo 600 da togliere deve pensare ancora a questo lato esatto quindi abbiamo diciamo un buon vantaggio mettiamo il bombarolo da questa parte la moschettiera da questa parte e stiamo a vedere come si comporta facciamo anche gli arcieri non fa nulla ah rage quit così cioè dai ma amico mio abbiamo appena iniziato tre coroncine ci apriamo un volo della corona ma chi se ne frega grazie grazie bellissima partita grazie non so come si pronuncia quindi lo chiamo amico russo è vero che esistono le faccine in questo gioco me ne ero dimenticato pure io la cosa più fastidiosa di sempre mamma mia quanto fanno venire il nervoso quelle faccine comunque dai speriamo di trovare qualcosa di forte primo baule dorato da autore per quando andiamo a nanna lo mettiamo stanotte ad aprire esatto qui non so perché continua ah è questo che continua a darci la notifica ok così non ci distruvi più vediamo cosa troviamo allora troviamo subito un epica te lo dico io dai no non credo 147 di oro 2 gemme il pecca che mi piace sempre mini pecca ricordati capanna goblin la capanna mi piace un sacco 17 gobletini mili ma di nuovo il cucciolo di drago ma come vabbè lo possiamo portare al 2 io non mi lamento ho detto poco fa che era abbastanza scarso al 1 e che sarebbe stato meglio portarla al 2 ed ecco qua sono stata ascoltata quindi l'abbiamo trovata talmente in fretta che non abbiamo i soldi per potenziarla epico che fortuna però questa è stata davvero una fortuna l'avevo chiamata se lo chiamo lo chiamo lo portiamo dietro al 4 loro perché a me loro è una di quelle carte che piace quindi sinceramente ce la portiamo avanti per un sacco di tempo quindi averli già al 4 a dare fastidio capito a difenderci bene sì assolutamente da un prince che è uno di quelli che dà più fastidio secondo me farà un sacco comodo quindi non male sono indeciso se mettere lui secondo me sto deck va bene così sai perché io pensavo che potrebbe essere così perché lui comunque anche se è versione mili è molto simile al draghetto e per ora non abbiamo troppe masse molto il bombarolo ti dico la verità non mi fa impazzire come carta mentre il mini pecca lo potremmo usare sia per i giganti sia per prince il mini pecca è esatto e più per le cose tancose che in effetti non abbiamo una buona difesa contro le cose troppo tancose esatto si può provare si può provare proviamo l'ultima forse ci stava bene anche quello non lo so vediamo sì 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 così vediamo come fa ovviamente vedi vedi in questo caso sì il mini pecca è buono oh ce l'ho già il 3 bello 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 sì 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 però noi abbiamo mini pecca più goblin che guarda scusami per amico mio allora ti facciamo andare a lato esattamente così ti prendi un sacco di danni da brutto prince e poi questi danni li accettiamo vabbè li accettiamo sinceramente non mi aspettavo un inizio così cattivo vero però sì è andato proprio guarda quanto danno abbiamo preso sì 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 speriamo di dimenticarli presto questi danni è stata una brutta battosta il prince ve l'ho detto ragazzi all'inizio no è davvero davvero forte questo qua è già un ottimo attacco è un buon attacco esatto non so bene a cosa sta pensando quella fireball che ha fatto lì al centro la ringrazio tantissimo ha aspettato totalmente l'isir non capisco neanche io forse gli è partita sinceramente non capisco è perché sinceramente mi sembra perplesso cerchiamo di approfittarne l'abbiamo confusa attenzione vogliono chiudere la partita non ci credo che la vinciamo così grazie va benissimo lo stesso l'abbiamo un po' confuso secondo me non si aspettava questo attacco si è stordita ha fatto una fireball al centro a casaccio e ha detto basta non faccio più nulla no non vogliamo votare più tardi grazie adesso non ci interessa non abbiamo voglia di votare comunque ci fermiamo così tre vittori e una sconfitta giusto? ok non è male contro il giapponese no non va specificato siamo a 120 trofei so già che ci chiederanno tutti se apriremo il clan si lo apriremo se continuiamo la serie quindi fateci sapere più che altro voi se volete vedere avanti questa serie se vi piace questa idea del provare ad andare avanti appunto senza shoppare speriamo di sì nel caso lasciateci tanti like lasciate tanti commenti e niente ci fermiamo così sì spera che se il video sia così se vi è piaciuto lasciateci un bel like questa è la prima volta che vi ho detto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao alla prossima ciao 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 ciao